Music, news, sport, every day for you on the web, lecochannel.it, the blue light blue radio Ivan il gol per te direi che è stato il giusto premio per quella che è la tua annata che ha iniziato in panchina stai giocando da titolare in questo mese che per voi è fondamentale è stato il gol che ha definitivamente sigillato la gara e che per te è stato comunque veramente un bel premio e una bella soddisfazione sicuramente se è legato a questo stadio Sì, hai detto bene, sono partito dietro quest'anno ma adesso ho la fortuna di giocare ho lavorato per farmi trovare pronto e spero di ripagare la fiducia dei miei compagni perché questa squadra ogni singolo giocatore si aspetta tanto dal compagno perciò sono contento sicuramente di aver fatto gol ma l'importante avevo già detto in settimana era la prestazione, la mentalità e a parte forse l'inizio per 80 minuti siamo stati superiori all'avversario Sì, all'inizio diciamo che è stato un po' di apprendistato per voi che avevate un centrocampo praticamente tutto nuovo senza segato cambia comunque è stato l'unico giocatore che ha sempre giocato e questo la dice lunga e anche in fase offensiva comunque Draghetti era un po' che non scendeva in campo quindi qualcosa da sistemare almeno in fase di approccio c'era? Sì, c'è stato, si è visto subito e ce lo siamo detti anche noi giocatori facevamo fatica magari a sviluppare perché a 5 dietro noi sfruttando tanto le fasce sia con Simone che con Drago o comunque con Lisa eravamo un po' più chiusi oggi però ovviamente il gol di Riccardo ha aperto la strada ed è stato tutto più facile in discesa E adesso si va a Savona? Eh, Savona sicuramente è un altro tipo di partita sappiamo che anche i dieci minuti non vanno concessi perché sono squadre che quando sbagli ti puniscono bisognerà fare un'altra partita perfetta e continuare con questa rabbia, con questa voglia che ci sta tenendo su Grazie Ivan, complimenti e buon lavoro Grazie, ciao Gianluca, una tripletta è sempre un'ottima soddisfazione oggi vi riporta in testa la classifica direi che per te è una giornata perfetta Sì, sì, oggi è una bella giornata per la tripletta ovviamente ma soprattutto anche per i tre punti perché ci riportano primi in classifica aspetteremo domani le altre partite e poi andremo mercoledì a giocare la partita che ci manca a Savona Diciamo che riportarvi in testa è sempre un'ottima cosa perché così la pressione si sposta sulle teste altrui oggi avevate gli occhi addosso da parte di tutti giocavate in anticipo e avevate cinque assenze importanti non si è visto, francamente Sì, indubbiamente giocare magari giocare prima degli altri ti può mettere pressione poi come hai detto tu oggi mancavano dei compagni tra di fide e infortuni eravamo un po' contati comunque io penso che questa squadra si è sempre fatta trovare pronta sia quando mancavano molti titolari quindi sono contento per questo E da domani si ricomincia a pensare a come hai detto tu a Savona che sarà uno snodo fondamentale direi di questo campionato perché potrebbe consentirvi anche di piazzare un allungo Sì, sarà una partita importante come tutte le altre però indubbiamente è uno scontro importante perché il Savona è un'ottima squadra una società blasonata e sarà difficile perché saremo in casa loro però noi andiamo là convinti di poter fare il nostro gioco di poter fare una grande partita Grazie Gianluca, complimenti buon lavoro e sei una dedica al momento di farla Ma la dedico alla mia famiglia a tutte le persone che mi sono vicine e a me stesso che ci voleva dai grazie a voi, grazie a tutti Mister, diventa difficile parlare dopo un 6-0 non si può trovare neanche un pelo nell'uovo francamente diciamo semplicemente che la punizione dopo 5-10 minuti del Borgaro che è sfilata alla destra di Safarikas vi ha dato ancora di più la spinta per poi andare a chiudere questa partita che dopo mezz'ora era già 4-0 quindi già andata quasi in archivio chiaramente poi ma sempre giocate fino in fondo Ma sì, dovevamo solo stare attenti all'approccio l'avevamo detto a cercare di non prendere gol perché è una squadra che magari in questa posizione di classifica può avere magari anche un sussulto nel momento in cui si trova in vantaggio e vede uno spiraglio è chiaro che poi se si trova sotto di 3-4 gol dopo mezz'ora fa fatica a trovare le risorse energetiche mentali per poter reggere l'impatto ma noi siamo contenti così sapevamo che era una partita difficile dal punto di vista mentale l'abbiamo approcciata nel migliore dei modi e abbiamo portato a casa il risultato Oggi hai avuto ottime risposte chiaramente da Draghetti che nell'ultimo periodo stava trovando poco spazio ha avuto anche un piccolo infortunio scelta in più per la partita di mercoledì in cui potresti anche recuperare Tommaso Lella Sì, sono contento per Drago è un giocatore che sta lavorando con grande dedizione quando trova spazio riesce sempre ad essere utile così vale per Lella più siamo è meglio è io adesso non so chi servirà mercoledì all'inizio entrando però questo è un gruppo di ragazzi che lavorano bene e il fatto che oggi lui abbia trovato 3 gol è positivo perché dà un segnale che sono tutti sul pezzo Troviamo un perno oggi in questa gara al dia di 3 gol di Draghetti c'è stata una prestazione in mostra di Giancarlo Lisa e ancora una volta da interno, da esterno si dimostra avere ago della bilancia in quella zona del campo Un ragazzo molto umile un ragazzo che ascolta che porta in campo le idee e ha dimostrato di essere utile appunto e quindi molto utile sia come punta esterna che come mezzaro oggi è stata una prestazione intelligente e questo è stato un segnale anche per tutto il resto della squadra quindi sono stato molto contento 5 su 6 sono le vittorie che avete conquistato la sesta da giocare mercoledì in novembre poteva essere ed è stato per tanti fattori uno snodo fondamentale e voi lo state conducendo nel miglior modo possibile Sì, però i punti in pallo sono sempre 3 non è che se vincisci a 0 ti danno più punti quindi quella di mercoledì è una gara molto insidiosa molto tosta oggi godiamoci questi 6 gol però da stasera da domani mattina cominciamo a pensare a Savona perché è una trasferta bella tosta una di quelle che possono lasciare il segno vero in questo campionato grazie mister, buon lavoro a voi music news sport every day for you on the web lecochannel.it the blue light blue radio no no grazie a tutti